Mi chiamo Fausto Carniel. Come allievo di Don Vittorio Godini, conosciuto con il nome di Victor, vorrei raccontare brevemente la sua vita. Don Vittorio nasce ad Aurisina il 3 gennaio 1920. A diciassette anni lascia il lavoro di commesso perché viene chiamato in Sicilia come calciatore professionista. Viene quindi acquistato dalla società calcistica del Genova. Alla fine della guerra, a ventiquattro anni, si incontra con i salesiani di Don Bosco. A 35 anni viene ordinato sacerdote dopo essersi laureato in teologia a Padova. Consegue il diploma di insegnante di educazione artistica a Milano e inizia sul lungo insegnamento in varie scuole. La passione mai spenta per la pittura e la scultura rinasce in questo periodo. In questi ultimi anni inizia un nuovo genere di pittura che definisce Nuova Metafisica, frutto di ricerca e meditazione sul mistero dell'uomo. Legato all'ambiente miteleuropeo, ama i colori forti e talora duri. Le sue opere sono presenti in Veneto, Friuli Venezia Giulia, in Slovenia e Croazia. Un giorno disse del suo lavoro pittorico, mi piace paragonare il mio lavoro ad una costruzione sostenuta da due strutture, una metafisica e l'altra pittorica, che evidenziano un'unica realtà che fonda e sostiene tutto l'edificio. La verità di Dio nascosta è invisibile, vive in noi. Muore a Vorizia il 30 novembre 2013, a 93 anni. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.